buongiorno e benvenuti a tutti a questa è la rassegna stampa la rassegna stampa di fano tv come tutte le mattine siamo qui in diretta per leggervi giornali lo faremo tra un istante davvero abbiamo soltanto la pazienza di aprire il nostro touchscreen con le previsioni del tempo intanto però la regia ci farà vedere tra un istante il cartello con il santo di oggi anzi i santi perché sono due santi sono stati vescovi timoteo e tito ma anche discepoli di san paolo e parliamo di due persone che sono vissute allora timoteo era il discepolo di letto per diletto di paolo parliamo del 50 l'anno 50 e tito invece è un pagano che forse lo stesso paolo ha convertito e battezzato ok il sole è sorto alle sette e mezzo tramonterà 11 minuti dopo le ore 17 di oggi pomeriggio andiamo a vedere adesso invece con l'aiuto del sito della protezione civile delle marche il bollettino meteorologico allora per oggi venerdì 26 gennaio il la protezione civile prevede un cielo parzialmente nuvoloso con temperature in aumento sabato 27 il tempo sarà nuvoloso ma con alternanza schiarite quindi avremo temperature ancora in lieve aumento avremo anche un po di vento e vediamo adesso un po' con di suspense rullo di tambure che cosa succederà per il giorno di domenica domenica qui a fanno c'è il carnevale vediamo come sarà il tempo eccolo qua il tempo sarà sereno poco nuvoloso domenica le temperature minime sono in diminuzione quindi farà freddo di notte le massime stazionarie un po' di bava di vento senza direzione prevalente però insomma si saranno da nord ovest quindi sarà piuttosto freschino lungo la costa soprattutto dalla serata però ecco tutto sommato niente di che quindi avremo durante le ore dottorne le foschie e banche di nebbia nei fondovalli nelle zone pianeggianti domenica per il resto la giornata sarà tutto sommato serena con anche qualche uscita di sole quindi insomma dovrebbe essere una giornata tipicamente invernale e dunque una giornata gradevole anche da trascorrere all'aperto e in via le gramsci per chi deciderà di venire qua a fanno al carnevale buongiorno paola buongiorno anna buongiorno elio franco giuseppina rolando sonia tutti tutti qui sintonizzati col cellulare a guardare o anche su nel computer a guardare in diretta su facebook la nostra rassegna stampa allora vi intanto tanti like e noi andiamo subito a vedere i giornali perché i nostri telespettatori giustamente vogliono sapere che cosa scrivono di cosa parlano i giornali oggi allora questo è il corriere adriatico il quotidiano più letto delle marche e il quotidiano di riferimento dei marchigiani e che oggi in prima pagina nell'edizione di pesaro mette in primo piano il problema che ha la polizia stradale ovvero che ha gli etilometri che non funzionano qualcuno dirà è meno male così almeno non ci fanno la multa non ci fa e invece no non è proprio esattamente così perché avere un ubriaco al volante è una bomba vacante allora etilometro revisione lumaca allarme del sindacato di polizia per la manutenzione troppo lente la polizia stradale è in difficoltà mentre a centro pagina i vigili hanno sgomberato il parco 25 aprile a pesaro demolite le baracche a rischio incendio i fuochi notturni infatti venivano utilizzati per scaldarsi anche per cucinare però rendevano tutto quanto molto molto pericoloso qui siamo nella pagina di pesaro fano invece infrastrutture viarie imponenti è un cantiere storico per fano il sindaco mostra l'avanzamento dei lavori lo slittamento al 2019 per le varianti poi art bonus fano si piazza tra i primi dieci il progetto vincitore relativo alla digitalizzazione di un codice del quattordicesimo secolo l'altra pagina di fano così la mappa del carnevale prende forma alla scuola montessori gli alunni lavorano alle creazioni dell'atelier la mascherata di rossini in tandem con il con il liceo poi la diocesi di fano fossombrone cagli e pergola e interviene sulla 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 campagna elettorale perché di fatto siamo in campagna elettorale sappiamo tutti ormai che il 4 di marzo si vota la diocesi dunque entra nel dibattito e dice i candidati in lizza illustrino i progetti e non facciano semplicemente slogan l'ufficio pastorale per i problemi sociali indica cinque priorità a partire da imprese e famiglie la siligata andiamo a pesaro questo è il proposito di etilometro di controlli stradali e quant'altro sulla siligata gli autovelox devono essere spostati per il quartiere san bartolo inutile l'attuale collocazione poi colpi ancora colpi di notte a pesaro sul sia nelle case nelle aziende i ladri senza sosta continuano a fare razzie a destra e a sinistra furti in azienda topi d'auto addirittura le razzie continuano e la lista civica una città in comune pensa ripristino della pattuglia notturna della polizia municipale le baracche dei nomadi abbiamo visto qui ci sono anche le fotografie abbattute dalle ruspe sgomberato il parco 25 aprile i vigili parlano di condizione pericolosa dalla valle foglia invece depuratori la nuova filosofia affidati i lavori di per l'ampliamento dell'impianto di montecchio che si prevede saranno conclusi nel 2019 poi ci saranno nuovi collettori e la chiusura delle piccole strutture di monte labbate apsella bottega e molino ruggeri andiamo sulla pagina invece adesso di urbino perché urbino apre con le cipolle ieri come avviene ormai da tantissimi anni questa signora che si chiama emmanuela forlini davanti ai canonici 12 spicchi di cipolla posizionati su un tagliere con sopra un pizzico di sale ebbene ha elaborato dopo aver tenuto esposto nel terrazzo d'oriente questo tagliere ha elaborato e ha interpretato i risultati leggendo un po vedendo un po come si era sciolto il sale quel pizzico di sale che la notte e la sera prima ha messo su questi 12 spicchi il risponso qual è che pioverà tanto pioverà tanto e lo farà a partire da febbraio febbraio sarà l'inverno vero secondo le cipolle ci sarà neve ci sarà ancora tanto freddo insomma ci sarà anche tanta pioggia nel corso dell'anno tutte le previsioni le potrete leggere sul corriere adriatico di questa mattina la cipolla pioggia catinelle questo è il titolo l'inverno arriverà a febbraio il risponso dell'antico rito custodito da emanuela forlini solleone soltanto il sole cocente soltanto nel mese di luglio e meno male valcesano unico polo per la scuola via ai sondaggi sul gradimento l'aggregazione nel presidio di san giorgio siamo a terra roveresche ma il sindaco annuncia fondi per barchi sebastianelli ipotizza la costruzione di un plesso per bimbi da 0 a 6 anni con una nuova didattica e poi la colle marathon arriverà alla rocca malatestiana da mondolfo quest'anno partirà la corsa sulla mezza distanza dei 21 chilometri sospetta ladra e qui ci soffermiamo perché da mondolfo arriva la notizia che una sospetta ladra entra in casa però gli anziani si accorgono capiscono che c'è qualcosa che non va la cacciano via fallisce dunque il raggiro ad una coppia di coniugi la pensionata dice fate attenzione a queste persone era una donna distinta aveva detto di conoscere la figlia delle vittime a cui doveva lasciare un pacco quindi attenzione perché fanno così di solito è così vogliono si informano un po e poi dopo cercano di entrare dentro l'importante come diciamo noi da 12 anni a questa parte non fate mai entrare sconosciuti dentro casa anche se avessero una divisa al via programma di lavori per un milione e mezzo a San Costanzo la sindaca annuncia opere pubbliche e una nuova illuminazione anche qua se sull'altra pagina 11 però di del Corriere Adriatico c'è l'avviso l'avviso che ha lanciato l'azienda sanitaria locale guardate il titolo fate attenzione a falsi infermieri e terapisti addirittura l'allarme è dell'area vasta 1 per chi fa ricorsa alle cure domiciliari il nostro personale è sempre munito di divisa io ho detto non fate entrare nemmeno con l'indivisa a volte viene da dire così lo dicono anche le stesse forze dell'olio è difficile capire che però qui c'è un cartellino un cartellino identificativo ed inoltre prima di iniziare ogni terapia a domicilio c'è sempre un accordo volto a stabilire giorno e ora dell'appuntamento ecco partiamo da qui l'appuntamento e il giorno vengono stabiliti al telefono quindi se voi a voi arriva una persona in un giorno e in un orario che non avete stabilito chiaramente qualcosa deve cominciare a puzzare quindi cominciate a dubitare comunque tutti i dettagli sul Corriere di questa mattina bimba morta la mamma lascia l'ospedale di Urbino ora la coppia ha una nuova casa da Piobbico questa coppia di giovani romeni lo abbiamo ricordato anche nei giorni scorsi hanno 21 anni questi ragazzi hanno avevano una bambina di sei mesi che purtroppo è morta nel sonno e adesso insomma si attende che il PM di Urbino dia l'autorizzazione a fare a svolgere i funerali da Piobbico comunque la famiglia dicevo si è spostata ad Apecchio e ora si attende il rilascio del nulla osta comunque questa è una famiglia che ha deciso di rimanere in Italia e ha deciso di rimanere ad Apecchio mentre erano a Piobbico fino a qualche giorno fa la tragedia si è consumata a Piobbico ora riparto dal sud delle Marche dice Lara Ricciatti dopo lo sgambetto di Civati non ho paura di lavorare in salita doveva essere candidata nel collegio Marche Nord invece Civati l'ha spostata al sud tutto diventa per Lara Ricciatti fanese deputata alla Camera tutto un po' più difficile però lei dice io non mi scoraggio sono una che lavora e quindi porterò a casa comunque il risultato allora andiamo avanti adesso salutiamo ancora Sara Dalbezio, Matteo Falcioni, Andrea Paponi, Ramona Rossi, Letizia Zaccardi, Rossella Landini tanti like anche per voi allora andiamo avanti le cipolle dicono pioggia qui siamo sul resto del Carlino il barometro di Urbania annuncia un'annata bagnata e poi la politica Forza Italia schiererà Aguzzi l'ex sindaco di Fano e attuale sindaco di Colle al Metauro mentre il Movimento 5 Stelle risponde con un generale ovvero Maurizio Cattoi forestale Carabinieri il nome a sorpresa dunque dei grillini nel PD regge il quadro benedetto da Matteo Ricci e rispunta Lucia Annibali quindi si va verso le elezioni nel cruciale collegio di Fano e Senigallia questo è il quadro che vi ho appena descritto poi sotto i ladri vanno anche in palestra poi sparisce anche un Audi A6 furto allo smash di via Toscana Pesaro Belloni chiede di ripristinare i vigili di notte e anche qui vedete etilometri fuori uso la stradale in difficoltà andiamo a vedere queste sono le fotografie di come i ladri sono entrati allo smash di Pesaro e hanno lasciato il bar in fuga con 600 euro spesso sono più i danni, il costo dei danni che fanno questi qui che i soldi che portano via perché spesso poi di soldi in cassa ce ne sono pochi qualche spiccio o qualcosa oppure in merce e Rossiano smash rubati i soldi, la razzia continua anche nelle case visitate la palestra via Toscana e il centro del riciclo sparita anche un Audi A6 l'arrivo della donna delle pulizie del centro sportivo ha messo in fuga gli intrusi andiamo sulla pagina 10 di Pesaro del resto del Carlino polizia stradale senza etilometri su 15 apparecchi in dotazione solo 4 sono rimasti disponibili il sindacato Lanzi dice vi è il pericolo di non poter più controllare gli ubriachi al volante e questa è davvero una cosa grave sotto invece oggi l'addio a padre Fabio tanti pesaresi andranno a Loreto questa mattina per salutare colui che ha guidato la parrocchia pesarese per tanti anni padre Fabio Ottaviani è il frate Capuccino originario di Piobbico già parroco di San Francesco a Pesaro e che è scomparso a 79 anni mercoledì mattina il cui funerale si trarrà alle 10 di questa mattina nel santuario di Loreto la pagina di Fano invece la vita notturna è tornata in Romagna ebbene c'è questa inversione di tendenza secondo il resto del Carlino sono spariti i locali nei quali si potevano organizzare le grandi feste e dunque i fanesi d'inverno espatriano mettendo a rischio chiaramente perché quando si fa la strada per andarsi a divertire in Romagna come si faceva 20 anni fa insomma il rischio delle stragi famose, famigerate stragi del saldo a sera insomma ci sono sempre, ritornano purtroppo anche se è un po' diverso rispetto a 20 anni fa adesso ci si organizza, mi dicono che chi guida sostanzialmente porta il gruppo insomma è uno che si sacrifica tra virgolette quindi resta il più sobrio del gruppo gli altri magari alzano un po' di più il gomito si sanno un po' meglio organizzare oppure addirittura con mezzo a noleggio quindi si fanno accompagnare così mi dicono ok il ponte sul Metauro prende forma l'altra pagina sopra luogo del sindaco e dell'assessore con la società autostrade parliamo delle opere compensative spuntano i primi pilastri è lungo 33 metri e dunque questo ponte che passa sovrasta il fiume Metauro comincia a prendere forma quello invece sul canale Albani e la Flaminia ma anche il via libera sulle varianti qui ci vorrà un po' di più i grillini invece inaugurano uno spazio una nuova sede a 5 stelle in via Nolfi e sotto invece Carla Panaioli si dimette dal CDA di Aset Spa per motivi tecnici la stessa dice c'erano dubbi sulla durata dell'incarico e sulla indennità andiamo adesso siamo quasi in chiusura ecco sulla pagina dell'entroterra finti anche qui finti infermieri a domicilio l'asur avverte è una truffa dunque state attenti e segnalate soprattutto se vedete qualcosa di strano il comitato Remsa Fossombrone non si arrende dobbiamo impedire l'apertura oggi riunione alle 11 nella sala del Consiglio Comunale l'ultima pagina è quella di Urbino Raffaello una mostra evento il direttore Aufreiter prepara il 500esimo si lavora per i prestiti e per portare a Urbino le grandi opere poi i numeri del flop delle gite purtroppo visitatori in calo ad Urbino per il terremoto gli incassi però tengono ok noi siamo quasi in chiusura ormai abbiamo finito noi ci fermiamo qua allora vi ricordo che domenica domenica dopo intorno alle 20.45 abbiamo il processo al Carnevale in diretta al quale siete tutti invitati a partecipare come giudici quindi giudici da casa qui avremo degli ospiti avremo tanti servizi le nostre troupe saranno sparse dal mattino alla sera per realizzare servizi e quant'altro ma come sempre abbiamo bisogno della vostra collaborazione salutiamo Silvana Euseppi Carlo Torelli buona giornata anche a te Francesca Ciavaglia e poi Mary Montali Paolo Luzzi Sauro Prodi tanti tantissimi a seguire il nostro la nostra rassegna stampa al mattino anche su Facebook buona giornata a tutti noi ci vediamo stasera alle 20.30 con occhio alla notizia Grazie a tutti